suoni nuovi il suono della nuova musica conduce in studio giomba amiche ed amici di suoni nuovi ben ritrovati insieme un caldo saluto a tutti voi io sono giomba questo è suoni nuovi il suono della nuova musica il format che vi porta nel mondo della musica emergente vi facciamo conoscere gli artisti i nuovi artisti emergenti indipendenti le band che ci raccontano la loro musica le loro esperienze le loro speranze le loro aspettative insomma una cassa di risonanza che speriamo poter essere utile davvero a tantissimi artisti vi ricordo per partecipare al programma seguitemi dal mio profilo instagram il giombagram e scrivetemi tramite la posta privata per tutti i dettagli stessa cosa se siete un ufficio stampa potete appunto scrivermi dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli insomma come dico sempre diamo voce alle nuove voci suoni nuovi bene bene cari amici iniziamo la nostra nuova puntata di suoni nuovi e lo facciamo con un duo di dj producer dance che sono i nostri primi ospiti di oggi allora do il benvenuto a dj froggy e dj raffi che sono in collegamento con noi ciao ragazzi benvenuti a suoni nuovi eccoci eccoci ciao ciao sono molto contento di avervi di avervi ospiti perché come vi dicevo siete la prima coppia in assoluto una cosa assolutamente nuova per per la nostra trasmissione di dj peraltro peraltro producer e oggi appunto ci ci racconterete insomma parleremo del vostro nuovo ep che è road to tmf ma ne parliamo insomma con con calma abbiamo abbiamo modo di di potere eviscerare insomma l'argomento ma più che altro mi mi incuriosiva la vostra storia perché comunque diventare dei dj e peraltro anche dei producer non è semplice come avete mosso i primi passi in questo mondo tutt'altro che semplice tutt'altro insomma che è facile da così da da mandare avanti comunque da da poter ecco mandare avanti con le unghie e con i denti assolutamente grazie facciamo testo al feroce ok dai allora per quanto riguarda la storia vediamo un po la mia storia a livello professionale comincia nel 2002 sono passate ormai più di 20 anni mi sono letteralmente innamorato della musica metronica partendo dalla componente della italo dance per poi andare sempre di più in alto con i dpm fino ad arrivare al panorama hard dance in stile UK hands up in stile cinesco teutonico e poi diciamo mi sono sempre di più aggiornato verso tutti i microstelli della panorama rave una parola che oggi giorno è impronunciabile e invece se tu fossi in Germania rischierete un bagno di polla a livello festivo di di polla festeggiate perché è inutile nel nord Europa c'è una concezione profondamente diversa della musica così come viene veramente intesa anche perché è questo il reggae aggregazione è proprio l'unione delle persone attraverso 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 la munica attraverso la propria passione non è assolutamente niente di quello che ci hanno fatto senza pensare perciò il nostro moto come standing record è rave till grave e noi ce lo teniamo stretto certo certo anche perché diciamo probabilmente c'è stata anche un po una una sorta di distorsione parlando di rave per carità dico sicuramente possono capitare ma un po come in tutti gli ambienti le cosiddette virgolette mele marce ma logicamente neanche fare di tutta l'erba un fascio insomma neanche così dico per carità ci sono comunque le mele marce in tutti gli ambienti però logicamente non si può fare appunto di tutta l'erba un fascio e c'è stata sicuramente una distorsione parlando di rave si pensa sicuramente a qualcosa di negativo addirittura di pericoloso ma guarda io approvo tra l'altro i fatti togliere di mezzo tutta la pericolosità e tutto l'abusivismo che c'è intorno a queste cose sono perfettamente d'accordo ma assieme a un provvedimento restrittivo bisognerebbe seguire con un provvedimento che inciti la musica soprattutto la musica emergente in questo panorama c'è tantissima musica che non ha e tantissimi musicisti che non vedono l'ora di dire la loro noi siamo tre questi ma ce ne sono tantissimi altri devo soltanto dire questo per fare l'esempio prima di questo momento siamo nel 2023 il mio momento di massimo il mio altro momento di massima attività musicale a livello di produzione di live è stato tra il 2009 e il 2013 già allora a quell'epoca io lamentavo il fatto che non ci fossero abbastanza spazio per la categoria dei dj producer quindi non a quelli che mettono semplicemente musica che piace alla gente ma proprio fanno un uno showcase vero e proprio inseriscono i brani che compongono loro stesse io già allora lamentavo l'assenza di opportunità per i dj producer di far sentire le proprie creazioni e di avere comunque un un modo diciamo di attraversare le soglie di casa propria oggi 2023 non è cambiato assolutamente niente anzi forse le cose sono addirittura peggiorate addirittura perciò 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 io dico perciò io dico in conclusione va benissimo togliere l'abusivismo però almeno seguiamo la scia dell'europa in europa ci sono tantissimi festival tantissimi e è su questo che io e raffi puntiamo personalmente certo assolutamente e invece raffi per quanto concerne te invece con quali sono stati i primi passi in in questo arzigogolatissimo mondo allora io provengo da una famiglia già da dj quindi poi nel dna la finisceva piccolino già stato inculcato con bassi potenti cazzo nel dna infatti la piccolina ascolta la musica techno cose che un bambino formale non ascolterebbe poi un altro familiare il mio cucchino mi fa scoprire la compilation e vedrò a come non di amore puro subito e quindi sancta sanctorum insomma questo compilisce ogni volta ogni aspetto romanzo ogni uscita si 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 ad arrivare a un punto che dico ma questa cosa la voglio fare anche io che ascoltandola mi facevo un'idea ma però questa canzone è bella che hai una melodia un po diversa un po così quindi ho pensato sarebbe bello se potessi prendere quella canzone tra l'altro modo e così come molti mini di passi verso la produzione musicale e quindi anche autodidact che da solo poi ho imparato la sequenza di tutti i lucchi chiaro chiaro è proprio quella più professionale chiaro logicamente e quindi così man mano poi con gli anni ho creato la mia tecnica c'è da fare i primi mix ufficiali poi il mio primo singolo poi man mano ho cucinati i prodotti come me e fino a formare un gruppo musicale e altre collaborazioni fino ad arrivare oggi io ho la grandissima fortuna di fare una collaborazione con dice cochi che iniziano facendo delle produzioni pattesche abbiamo un show che è finito che non vediamo l'ora di mostrare a tutti quanti certo e noi ovviamente non vediamo l'ora insomma di ascoltare queste vostre meravigliose produzioni tra l'altro e qui entra in gioco più il musicista che lo speaker voi che diciamo siete proprio nel mestiere fate i dj sapete che l'europa in generale ma soprattutto l'italia è stata una grande fucina di anche di beat importanti l'italo dance quanti successi l'italo dance cantiamo ancora adesso da così mi vengono da pensare anche quelli molto molto più commerciali insomma self control di raf mi viene da dire proprio diciamo la sto sparando lì easy lady di spagna non so mi stanno venendo proprio nella mente me ne stanno venendo da una parte all'altra da un anno all'altro però è chiaro il fatto che noi italiani in questo senso abbiamo sempre dato tanto in generale l'europa con l'euro dance l'euro beat però sicuramente noi italiani facciamo questo mestiere da tanto lo sappiamo fare bene certo anche oggi comunque anche nelle nuove canzoni comunque riprendono successi del passato chiaro e siano anche appunto dici stranieri che riprendono appunto canzoni italiane per dire esempio blue di five sexy five una canzoni italiana ma tutto il mondo mai la replicata certo faccio un esempio di che orgoglio italiano abbiamo a livello musicale certo assolutamente quindi comunque è chiaro che questo tipo di di cultura musicale andrebbe appunto come diceva Proghi maggiormente tutelata e sicuramente i tempi sono così abbastanza non voglio dire difficili però complicati anche perché appunto come dicevamo all'inizio era già complicato dieci quindici anni fa probabilmente adesso è anche peggio anche perché suppongo ci sia anche una saturazione del mercato non indifferente beh la missione mia di Proghi è proprio questo istruire le persone che purtroppo sono ancora ignoranti per modo di dire in questo contesto che si soffermano sulla parola senza significato vero della parola quindi diciamo stiamo cercando di mostrare la bellezza della musica anche una cosa pura onesta genuina chiaro nulla a che fare con la violenza la pressione e altre cose che sono da evitare certo ma guarda Raffi torniamo al discorso che facevamo qualche puntata fa che torna spesso nelle puntate è un po' la questione dei pregiudizi è sbagliato comunque partire già con delle pregiudiziali spesse volte aggravati dal fatto di non conoscere quindi è peggio perché tu parli di qualcosa che non conosci fatti una cultura vedi se realmente ciò che hai sentito dire in giro corrisponde a verità e poi insomma magari trae le tue stesse conclusioni però è chiaro che nel mondo della musica ma un po' in generale nella vita insomma i pregiudizi non vanno molto d'accordo poi con con un mestiere da portare avanti anche con molta sincerità e franchezza alla fine sì qui ci allacciamo chiaramente a quello che dicevo io prima su Rave appunto esatto questa è la madre di tutti i pregiudizi se vogliamo bravo io mi riferivo proprio mi riferivo proprio a quello esattamente parlavo esattamente di quello dico per carità di Dio al netto del fatto che ci sono delle situazioni magari non proprio chiare ok ci può stare ma non perché sbaglia una persona tutti devono essere tacciati e marchiati ecco io credo che l'errore di fondo sia fondamentalmente quello alla fine ma poi la gente ma non tanto la gente comune ma quanto i media che poi spostano letteralmente il testiero delle masse da un punto all'altro dal punto A al punto D sono i principali coltevoli della disinformazione che si porta avanti da anni anche decenni su quello che è il rave come concerto musicale chiaro ossia il concetto di un festival creato dai giovani per altri giovani con musica abbastanza spinta ma comunque che rappresenta sempre una unione senza distinzione senza distinzione di religione di colore della pelle di qualunque tipo di distinzione tutti uniti al costetto di sua maestà la musica assolutamente questo è quello che questo è quello che il mondo non so il mondo ma comunque l'Europa e soprattutto il nord Europa intende quando parla di rave mentre il significato è completamente opposto però ho la fortuna ho avuto la fortuna di viaggiare molto e anche di partecipare a determinati eventi perfettamente legali e sono stato anche l'anno scorso in Belgio ad un evento hardstyle barra hardcore quindi un rave a tutti gli effetti e non c'era assolutamente niente fuori dalle virgole un evento in cui decine di migliaia di giovani che venivano tutta Europa erano sedicissimi di ritrovarsi di ritrovarsi in un prato davanti a un mega stage a ballare al cospetto dei dei producer del loro genere musicale perché e quindi ancora una volta sale alto l'urlo di dire no ai pregiudizi in generale perché spesse volte sono semplicemente dannosi e soprattutto fini assolutamente a loro stessi voglio perché in Europa è una cosa normalissima in Italia invece non si dovrebbe solo vietare ma dare l'opportunità di renderla legale ad investire dei spazi appunto anche con questo genere musicale esatto perché non è divertissimo da un Sanremo o un'altra venta simile sempre musica e sempre ci sono persone che amano la musica quindi dove può starci un litigio qualcosa del genere come dei rive così può capire anche a Sanremo è una cosa normalissima dell'essere umano non è che rive porta alla crenza vabbè insomma appunto semplicemente basterebbe solo organizzarsi evidentemente meglio niente di più e niente di meno voglio adesso affrontare con voi finalmente Road to TMF quindi questa strada verso il TMF che insomma sappiamo adesso ci racconterete meglio insomma è il vostro appunto nuovo EP che proprio è fresco fresco raccontatemi un po' la storia che c'è dietro Road to TMF raccontatemi un pochettino com'è nato le fasi della lavorazione raccontateci un po' diciamo che la track list è divisa diciamo in due troncone c'è il primo troncone che è quello un po' più attuale che si tratta sì della canzone principale vado a dire Teeth Rops è una canzone su cui io e Raffi abbiamo puntato tantissimo per questo nostro primo capitolo diciamo della nostra vittura disco piratica è una canzone in stile hands up tedesco per la quale abbiamo anche fatto produrre il primo videoclip in assoluto esatto sia della nostra carriera sia dalla nostra camera disco grafica e insieme alla versione originale abbiamo abbiamo inserito anche tre renyx di tre progetti musicali che a nostro dire sono formidabili sono accendente con Montilla che è un must all'interno del panorama hard dance dance core hands up in stile tedesco un produttore che in determinati posti in Europa non ha bisogno di nessuna presentazione e poi ci sono dei nostri amici produttori eccellenti come Vieto che è conosciuto ormai da quasi due decadi nella patogramma Italo Moderno e un duo un altro duo che è DDJ e Lux si sono fatti conoscere moltissimo per via di un EP recente e stanno lavorando davvero molto bene insomma si sono guadagnati la nostra fiducia e la fiducia anche di tutti i ragazzi che ascoltano questo genere musicale questo per quanto concerne la parte attuale delle per quanto riguarda la parte storica diciamo Rafi a te nella palla la seconda parte di pratica riguardano le canzoni che abbiamo appunto esibito al tour music eccolo e io lì volevo arrivare e lì volevamo arrivare sì allora tour music è un evento europeo certo che tratta a livello musicale un concorso nazionale come si può dire certo dove erano fatti delle tre selezioni in tutta italia e un'olta passata questa selezione si va dritti alla finale che quest'anno si è rivolta a San Marino a San Marino esatto e infatti noi abbiamo presentato questi nostri progetti musicali che sono presenti in questo EP e quindi data la nostra preselezione mixaggio in controllo la nostra prestazione come DJ rappresentando i nostri pezzi come i DJ producer che poi siamo rappresentati nella categoria DJ producer cioè la categoria musicale di ogni genere e quindi abbiamo convinto la giuria e siamo meritati di caminare a San Marino quindi diciamo questi brani sono un tributo a questo evento che abbiamo partecipato per una grandissima esperienza certo e per una gioia appunto presentare questo genere che ormai è diventato un'inizia come dire come in Italia chiaro siamo molto seguiti in Italia purtroppo resta ancora un genere di mischia che noi non ci arrendiamo e ci stanno cerchiamo sempre di tornare ai vecchi albori come negli anni di vita assolutamente assolutamente tra l'altro fatemi salutare il tour music fest che torna praticamente si può dire ad ogni puntata perché è una esperienza io lo continuerò a dire se volte mi dicono ma ti pagano no non mi pagano però continuerò a dire che il tour music fest è un'esperienza assolutamente formativa per le nuove leve lo continuerò a dire sempre lo dirò sempre a tutti i cantanti che mi dicono sai ho partecipato al tour music fest magari non è andata bene sai mi sono bloccato alle selezioni non importa è un'esperienza che secondo me ogni cantante emergente dovrebbe fare e lo dico apertamente con grande onestà e tra l'altro saluto l'organizzazione del tour music fest perché sicuramente ci segue e tra le altre cose se non erro la finale del tour music fest mi pare che è stata a dicembre è stata anche trasmessa da rtv san marino in diretta insomma è stata anche trasmessa è stata anche trasmessa in tv quindi si tratta di un evento assolutamente molto molto importante e replico a dire un evento che torna spesso all'interno delle nostre puntate quasi ogni puntata si può dire però è un evento che sicuramente merita e merita tanto anche perché comunque è organizzato al di là di tutto molto bene ed ha una una vetrina e una possibilità sicuramente molto importante per quanto riguarda così facciamo un po' di spoiler ora capisco che giustamente è troppo prematuro perché diciamo l'ep è uscito proprio freschissimo quindi capisco che farvi questa domanda è davvero troppo prematuro facciamo un po' di spoiler cosa bolle in pentola prossimi progetti prossime idee se noti prima ho citato due parole primo capitolo perché in effetti questo questo e te insieme al prossimo che uscirà a inizio primavera rappresentano diciamo la conclusione del primo capitolo della saga di Getty e alla fine di tutto questo noi faremo uscire l'album perché abbiamo fatto abbiamo fatto uscire dei singoli abbiamo fatto uscire degli epi che stanno andando ancora adesso molto bene e di questo dobbiamo ringraziare con un abbraccio fortissimo tutte le persone che credono in noi e in quello che facciamo ma non abbiamo ancora fatto un album ebbene anche questo uscirà e si chiamerà Chapter One e appunto per questo il titolo dice tutto tutto quello che abbiamo fatto nel primo capitolo per quanto riguarda proprio uno spoilerone questo è una indiscrezione proprio grande grande bellissimo sì non mi non mi dilungo troppo perché comunque c'è qualcosa che è qualcosa di molto intenso la si tratta appunto dell'inizio del capitolo 2 un inizio a cui Ratti tiene in un modo davvero particolare perché c'è poi una canzone che non vediamo loro di far uscire esatto sì assolutamente e anche questa avrà un suo videoclip originale assolutamente davvero vi auguro davvero ogni bene possibile soprattutto perché davvero portate avanti tra tante difficoltà e anche tra tanti pregiudizi comunque una una forma d'arte e cultura che è sempre più difficile da portare avanti però insomma la vostra la vostra passione davvero fa la reale differenza io vi voglio ringraziare davvero per essere stati i miei ospiti è stata una bellissima chiacchierata però prima di concludere ricordateci dove vi possiamo ascoltare online i vostri social le piattaforme insomma se vi trovi Spotify su ogni digitazione assolutamente allora il nostro diciamo noi sui social siamo molto attivi soprattutto per sui canali ufficiali della nostra etichetta discografica la standing record perciò su Instagram soprattutto potete trovarci digitando tutto attaccato standing record Italy e poi ovviamente abbiamo il sito ufficiale che è standing record appunto EU dove teniamo aggiornate tutte le release nostre e anche quelle dei nostri collaboratori dei ragazzi che pubblicano nella nostra etichetta certo siamo presenti anche su tiktok dove abbiamo il canale personale proprio DJ Prog e DJ Rache che alzi su youtube ovviamente c'è il canale della standing record che si chiama standing record official e lì si possono ascoltare alcune delle canzoni che escono ma soprattutto un massaggio porto di quello che poi uscirà nei mesi a venire certo assolutamente ragazzi grazie di vivo cuore davvero e come io dico sempre a tutti coloro che partecipano a suoni nuovi sapete che la nostra trasmissione è sempre aperta per voi le porte sono sempre aperte quando volete tornare noi vi accoglieremo siamo sempre felici di avervi tra i nostri ospiti grazie mille è stato un bello piacere grazie infinito grazie a voi allora io vi ricordo dj proghi e dj raffi road to tnf suoni nuovi bene bene cari amici continuiamo questa meravigliosa puntata di suoni nuovi il suono della nuova musica e lo facciamo con la nostra ospite do il benvenuto a Nora Lisi ciao Nora benvenuta a suoni nuovi grazie grazie mille sono veramente molto felice di fare questa esperienza insomma perché è una cosa nuova quindi per me è veramente un onore tra l'altro la tua simpatia è assolutamente strabordante o un po' insomma al pari della tua bravura dobbiamo dire giuro che non l'ho pagato per dire queste cose no 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 assolutamente poi le coordinate del bonifico ci pensiamo in separato vabbè vabbè dai però però era un segreto no no non è bene insomma si speri sempre tutto esatto esatto ma al netto di questo al netto di questo davvero voi sapete che chi passa da suoni nuovi chi passa dalla trasmissione come dico sempre è a denominazione di origine controllata quindi quindi sono controllata sono solamente le persone davvero meritevoli avete capito che Nora oltre ad essere davvero una bravissima artista è anche un personaggio assolutamente straordinario allora cara Nora innanzitutto benvenuta tra l'altro giovanissima diciamo è una ragazza non diciamo l'età per una questione anche di cavalleria però possiamo dire insomma che è una ragazza dopo gli enti dopo e basta basta dico solo questo fate voi esatto però davvero mi piace tra l'altro molto il tuo particolare modo di fare musica adesso ne parliamo però volevo iniziare un pochettino a parlare con te un po' dagli inizi dalla Nora bambina che insomma si avvicina al mondo della musica come è avvenuta questa passione questa folgorazione da dove è nata? proprio all'inizio all'inizio ero veramente piccola avevo dieci anni quindi non avevo nemmeno una consapevolezza musicale fondamentalmente alle scuole elementari si faceva lezione di musica la mia insegnante notò una mia particolare attitudine e consigliò a mia madre di scrivermi ad una scuola di canto cosa che fece prontamente un bel giorno mi disse perché non ci andiamo a scrivere a canto perché la tua maestra mi ha detto questo e quest'altro e io accettai e da là fu un amore a prima vista insomma si può dire che la mamma è stata lungimirante quindi si è stata fondamentale nel mio percorso artistico lo è tuttora perché mia mamma è la persona che mi ispira più di tutto è la persona che mi sprona è la persona che mi dà l'energia di cui ho bisogno come si chiama la mamma? senza di lei Daniela allora salutiamo salutiamo Daniela così quando riascorta la trasmissione insomma potrà essere felice della sua figliola quindi comunque è sempre la prima che fa il tifo per me quindi per me è la cosa più importante la prima fan in assoluto è vero sì sì assolutamente e quindi iniziai a studiare da piccolina con un insegnante privato e gli anni passarono fino ad oggi insomma e ne sono passati abbastanza ovviamente sono passati tanti non lo so non lo sto neanche a dire dal tuo accento leggermente appena accennato si capisce benissimo che sei di Bergamo Alta si capisce proprio benissimo assolutamente altissima proprio di Bergamo non so come hai fatto veramente credo che tu hai dei superpoteri Bergamo Alta e vai come dicevano Aldo Giovanni e Giacomo ti spedisco a Bergamo altissima eccola è altissima bellissima quella esatto 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 ovviamente sentite la meravigliosa simpatia dei romani che io veramente amo davvero con tutto me stesso perché davvero siete fenomenali grazie che bel complimento è la verità è la verità mi piace particolarmente che diciamo ti sei scoperta appassionata neanche tanto di generi cioè parliamo di generi abbastanza dirò una parolina ma dai entrata nel gergo comune insomma di noi giovani abbastanza cazzuti cioè parliamo di blues jazz R&B ma soprattutto il reggae wow tra l'altro tu hai delle treccine meravigliose dei dread non so se ho detto il termine giusto il secondo giusto sì dei dread esatto esatto proprio spettacolari ma ok d'accordo il blues il jazz l'R&B ok ma il reggae quindi Bob Marley tutti quelli Bob Marley ovviamente il capo stivite ma poi ci sono tantissimi altri esponenti come mai questa passione proprio per il reggae perché il reggae porta dei messaggi che sono veramente stati illuminanti per me ho iniziato ad ascoltare il reggae sempre da bambina quindi comunque avevo i miei rituali ad esempio che ne so quando dovevo lavarmi i denti la sera io sentivo mellow mood sentivo chances are sentivo jamming e piano piano continuando il mio percorso ascoltando sempre più musica mi sono avvicinata al senso del reggae che è un senso molto profondo racchiude proprio la giustizia sociale critica tutte le crudeltà che l'essere umano è in grado di fare la supremazia di popoli su altri popoli quindi mi sono avvicinata al reggae per il senso di giustizia che mi dà questo genere musicale che è difficile trovare un genere musicale che esprime al cento per cento degli ideali così belli chiaro ma tra l'altro anche dà dei messaggi di pace non indifferenti esatto in un momento insomma abbastanza critico devo dire per così per il panorama internazionale in cui ci stiamo ritrovando a vivere in questo momento tra l'altro appunto dalle tue note noto che dalle tue note noto è meraviglioso che uno dei tuoi sogni è andare proprio in giamaica a conoscere la Marley family quindi insomma assolutamente è proprio il mio big dream ciò che sto lavorando per poter fare sto cercando di fare in modo di poter andare in giamaica di poter avere delle collaborazioni musicali con degli artisti giamaicani che hanno il mood di cui ho bisogno per magari migliorarmi loro ce l'hanno nel sangue esatto perché comunque collaborare con degli artisti che sono di quell'ambiente che sono cresciuti in quell'ambiente che hanno il reggae nel sangue come patrimonio genetico ce l'hanno ti aiuta anche a dare una formazione migliore quindi fondamentalmente il mio sogno più grande è andare in giamaica e stare lì in due tre quattro cinque mesi e poi glielo so forse tornerò eh lo so lo so meraviglioso arriverà arriverà il mio il mio giorno prima di partire faremo un'altra intervista e ti dirò domani con immenso piacere con immenso piacere noi te lo auguriamo davvero con tutto il cuore grazie davvero cosa succede tu prendi queste lezioni di canto Nora nel frattempo cresce com'è proseguito il tuo percorso musicale cos'è successo strada facendo come diceva Baglioni ho cercato di trovare la consapevolezza artistica perché molte volte magari mi è stato proposto di partecipare a quel programma televisivo anche anni fa oppure di fare un determinato casting per un talent però io non sentivo di avere la mia consapevolezza artistica che è l'unica cosa per la quale un artista debba sponsorizzarsi logico non credo che basti avere magari una bella voce non basta avere una bella presenza un bel volto esatto cioè serve la consapevolezza artistica ossia che cosa vuoi dare al tuo pubblico che cosa vuoi trasmettere brava brava veramente ormai non credo di averla al 100% ma sento che sono arrivata ad una maturità tale da poter iniziare ad esprimermi musicalmente e quindi mi sto anche un po' buttando sto cercando di costruire i miei eventi cerco di andare appunto a fare qualche serata particolare per propormi diversi brani che mi piacciono sto iniziando a scrivere perché comunque scrivere non è qualcosa di banale cioè non basta scrivere due righe per dire ho fatto la canzone per scrivere una bella canzone bisogna lavorarci mesi e mesi e mesi e mesi e questo è il mio lavoro e neanche creare insomma quel brano dalla come dire come una sorta di scorciatoia facile verso il successo creo il creo il ritornello facile facile che mi entra in testa e così tento di scalare perché parliamoci molto chiaramente e qui ancora una volta praticamente io lo ripeto almeno due tre volte durante ogni puntata lo ripeto sempre qui lascio da parte lo speaker ed entra in gioco parlo da musicista e da cantautore e lo dico a tutti coloro che partecipano agli artisti emergenti alle band ragazzi guardate che se cercate scorciatoie per il successo il pubblico non è cretino il pubblico se ne accorge il pubblico se ne accorge quindi qualunque sorta di scorciatoia che possa essere commerciale che possa essere di qualsiasi tipo se non è coadiuvata comunque da una personalità artistica da un'idea ben chiara di ciò che vuoi come lo vuoi da una passione e comunque anche da un talento da sviluppare perché magari nasciamo sicuramente tutti noi nasciamo con un talento io per esempio nasco con un enorme talento per rompere le balle alla gente quello già è un talento per esempio oh anch'io ce l'ho questo talento no ovviamente è scherzo volevo rendere meno perentoria perché sennò sembra un rimbrotto non è così diciamo coltivare quel talento che tu sai di avere è fondamentale però devi comunque impegnarti devi davvero fare sacrifici devi davvero crederci e per esempio nel tuo caso io sbirciando un po' tra i tuoi profili io ho visto una tua esibizione di qualche tempo fa non voglio dire una bestialità mi pare fosse al benvenuti al sud dove hai interpretato magistralmente una Amy Winehouse che io francamente sono rimasto davvero ti ringrazio tanto davvero Amy è una delle artiste che io amo maggiormente mi ha sempre stimolato quella parte oscura della mia personalità quelle note profonde quella velata tristezza con cui lei cantava insomma Amy è una delle mie cantanti preferite tra l'altro mi piace la tua versatilità perché ho visto che passi da una Amy Winehouse a un you make me feel like a natural woman così cioè davvero e questo comunque è bello è una una grande versatilità comunque dimostra anche la voglia di volersi sempre migliorare sicuramente un molto interessante come approccio in tutto questo arrivano i Blue Rome che è il gruppo con cui collabori insomma siete ancora in formazione work in progress però arrivano i Blue Rome raccontaci un pochettino come nascono i Blue Rome come vi siete conosciuti come avete deciso insomma i Blue Rome nascono semplicemente da un incontro un incontro in un negozio di musica in cui io mi trovavo per acquistare determinati strumenti e questi ragazzi che tra l'altro sono marito e moglie sono una coppia nella vita si trovavano lì per salutare il proprietario di questo negozio quindi alla fine ci siamo incontrati per un caso ma il caso non esiste che poi chissà come mai facci caso gli incontri migliori noi musicisti li facciamo sempre nei negozi di musica non si sa come mai peraltro negozi di musica almeno per quanto riguarda me io devo andarci sempre accompagnato da qualcuno perché se non mi danno uno stop io rischio di bruciarmi la carta di credito veramente io rischio di fare dei danni colossali quindi veramente assolutamente quanto tempo fa vi siete conosciuti e incontrati con quelli che poi sarebbero diventati i blu rom ormai sono circa due anni che stiamo collaborando siamo in formazione perché abbiamo avuto dei problemi con determinati elementi quindi adesso stiamo cercando di trovare gli elementi mancanti come si dice però noi tre siamo noi tre siamo quelli che sono rimasti lì non si sono mossi per il resto tutto sta prendendo forma piano piano abbiamo trovato da poco un grande batterista stiamo cercando di trovare un bassista quindi comunque abbiamo la possibilità appunto di integrarci sempre di più di migliorarci e abbiamo sempre il nostro repertorio jazz blues r&b regge devo dire che mi da tanta emozione suonare con loro assolutamente se vi serve un tastierista fatemi un fischio mi raccomando va benissimo certo ad un certo momento lungo il tuo cammino artistico incontri due belle esperienze la prima è una voce per San Marino come ci sei capitata nel senso come sei arrivata a questo concorso ora parleremo anche diciamo dell'altra tua esperienza ci sono arrivata tramite la mia insegnante di canto che teniva una masterclass quindi comunque aveva anche la possibilità di darci delle istruzioni a livello tecnico molto approfondite è stata una masterclass molto bella e mi ha appunto spiegato mi ha reso nota la possibilità di potermi iscrivere a questo concorso cosa che io non avevo la minima idea e ho iniziato a credere che potesse essere comunque una buona occasione per farmi sentire per spogarmi una bella vetrina esatto e sono andata all'inizio insomma al casting di questo concorso e sono in attesa appunto di sapere l'evolversi della situazione ovviamente ma è stata comunque una bellissima certo assolutamente ma è stata una bellissima esperienza quindi comunque per me è qualcosa che rimane nel mio background assolutamente e a quando risale questa esperienza quanto tempo fa l'hai realizzata? è stata a dicembre a dicembre a fresca 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 però insomma siamo in via di d'arrivo addirittura d'arrivo di definizione esatto dopodiché il tuo meraviglioso volto spunta anche sulle frequenze dell'etere di Rai 2 viva il video box questa la voglio davvero sapere come come ci sei arrivata com'è successo insomma ci sono arrivata perché volevo iscrivermi ai casting fondamentalmente sapevo che c'era questo programma questo programma interessante perché comunque dare voce ad artisti emergenti io la trovo comunque una buona iniziativa sempre e comunque e quindi mi sono detta perché no andiamo a fare l'iscrizione andiamo al casting andiamo a vedere un po' come è la situazione e et voilà ho fatto una giornatina molto simpatica molto divertente mi hanno fatto cantare tante canzoni mi hanno registrata lì proprio dentro lo studio ho conosciuto anche tante persone simpatiche interessanti che rimarranno appunto tra le mie amicizie perché in queste esperienze c'è della della magia si viene a creare certo quindi fondamentalmente siamo tutti uniti per un fine altruistico perché comunque per fare musica oppure chi si dedica al teatro alla vittura alla scrittura all'arte qualsiasi sia all'arte in generale merita merita tanto perché è qualcosa di raro e di bello e quindi è andata così è andata molto bella sono rimasta veramente soddisfatta del risultato anzi credevo di meno credevo che non fosse così bello perché non ero sicura di aver cantato bene invece è andata alla grande è stato bello sì sì tanto tanto davvero dimmi un po' e attualmente come stanno andando le cose cosa stai facendo in questo periodo cosa stai architettando cosa stai progettando ci sono cose che non si possono dire nella vita nella vita ci sono cose che non si possono dire questo proprio come regola ma che presto si potranno dire adesso ancora no certo certo però c'è della carne al fuoco e quindi fondamentalmente ci sono degli eventi nuovi che stanno per arrivare che non posso dire ci sono eventi invece che posso dire quindi comunque ci sono delle collaborazioni che stanno per nascere anche altre serate in determinati altri eventi che sto per mettere a punto e per dare proprio le date sui miei social insomma quindi ho un calendario abbastanza fitto per fortuna cerco sempre di tenere aggiornate le persone che mi seguono proprio perché è bello sentire la curiosità della gente che mi chiede che cosa fai dove canti ti voglio venire a sentire sono delle conferme costanti e questo mi tiene impegnata parecchio quindi oltre allo studio del canto che si oltre allo studio del canto che mi tiene comunque bella impegnata o anche tutto un altro tipo di lavoro continui comunque a studiare ricordiamolo ovviamente e continuerò sempre non smetterò mai di studiare bisogna studiare perché non si è mai arrivati alla massima la migliore versione di sé ma vedi io lo dicevo l'altra volta ad un artista che è intervenuto tu immaginati se allo stato attuale ad oggi tu potresti arrivare a ritenerti un'arrivata cioè significa che ti stai bruciando il futuro cioè quindi tu sei arrivata qua a fine assolutamente no cioè non esiste un artista secondo me che davvero crede nelle sue potenzialità e che davvero può dare tanto in realtà non arriva mai cioè nel senso che magari mette delle bandierine sul suo percorso dei traguardi va bene però li supera anzi come lo ha definito un artista l'artista che è intervenuto nella prima puntata a Gendo che saluto dei checkpoint come si diceva quando da giovani noi giocavamo ai videogiochi dei checkpoint d'accordo però non ti puoi ritenere un arrivato ma attenzione non per falsa modestia ma semplicemente perché immaginati che danno potrebbe essere ritenersi degli arrivati e bruciarsi il futuro e tutto quello che è e mi permetto anche di dire che è un discorso generale non solo riservato all'arte quindi comunque in tutto in tutti gli ambiti in tutti gli ambiti della vita ritenersi cioè arrivati al massimo delle proprie abilità non è certo il modo migliore per cercare di migliorarsi quindi fondamentalmente nella vita bisogna sempre per quanto mi riguarda porsi dei dubbi logico perché non avere dubbi è un sintomo di totale come si può dire quando il tuo cervello non ha più il razzocinio non ho ragioni non ti poni più dei dubbi significa che non hai paura di niente invece il canto anche prendo per esempio il canto perché comunque è il mio ambito il canto è in continua evoluzione quindi ci sono delle tecniche nuove da studiare ci sono delle anche il nostro corpo cambia con l'età cambia con l'avanzare degli anni cambia con anche di ora in ora se a quest'ora fa più freddo le tue corde vocali saranno in un determinato modo e bisogna conoscere tutto ciò che riguarda il proprio ambito per saperlo manipolare al meglio quindi questo non c'è mai un momento in cui dici ora so tutto perché tutto è in continua crescita ed evoluzione quindi questo mi fa capire che è importante quindi il lavoro da fare e anche a livello psicologico su se stessi perché non puoi dire di conoscere tutto ciò che ti circonda se non conosci davvero bene te stessa assolutamente sì assolutamente sì è veramente è un grande questo è un grande insegnamento che nella vita va applicato secondo me andrebbe anzi applicato ancora di più di quanto non si faccia normalmente allora Nora io ti voglio davvero tanto ringraziare perché sapevi quanto io ci tenessi particolarmente affinché tu fossi il nostro ospite ringrazio io te per la possibilità che mi hai dato di potermi esprimere raccontarmi assolutamente ed anche io ci ho tenuto tanto a partecipare a questa tua occasione insomma che mi hai fornito offerto prima di concludere volevo farti proprio le ultime due domande una diciamo è forse un po' più particolare un po' più profonda che speranze hai quali sono le tue aspirazioni i tuoi sogni che cosa auspichi per un futuro a breve o a lungo termine io quello che mi auguro è di sentire sempre quella fiamma che mi porta avanti quindi finché sento la curiosità e lo stimolo di fare e di agire significa che sto sulla giusta strada quindi il mio augurio è che io abbia ancora voglia di fare quindi non è di arrivare a un determinato punto ma di scoprire sempre dove fin dove posso arrivare questo è quello che mi tiene viva quindi vorrei che questa fiamma non si spegnesse mai questo è il mio augurio ecco assolutamente e poi per concludere è la domanda che faccio insomma sempre a tutti ricordaci dove ti possiamo ascoltare i tuoi social online offline insomma dacci un pochettino ragguagliaci ecco assolutamente sì con molto piacere ho l'account di instagram in cui praticamente aggiorno sempre i follower le persone che mi seguono per eventuali nuovi appuntamenti eventi quindi la mia pagina è nora.lisi.music ed è il mio account di instagram ufficiale quello là dopodiché utilizzo anche facebook che è un account che ho creato da poco per integrarlo insomma con instagram lo utilizzo anche comunque anche lì sono attiva abbastanza è nora lisi quindi semplicemente con il mio nome nora lisi e ho creato un account di youtube e io là volevo arrivare e io volevo proprio arrivare da poco poco sì 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 volevo proprio arrivare lì il neonato esatto esatto il neonato è youtube ho creato il canale di youtube a cui ho rotto le scatole un po' tutti i miei follower per cercare di insomma di dare l'informazione se volete appunto iscriversi e lasciare qualche commento ai video delle mie serate perché comunque lì pubblicherò soprattutto video dei live oppure eventuali collaborazioni o eventuali videoclip quello che sta insomma piano piano venendo fuori il mio account di youtube è nora lisi quindi sempre quello fondamentalmente non ti puoi sbagliare non ci si può sbagliare conosciuto uno insomma non ti puoi sbagliare nora grazie grazie davvero tanto per la tua partecipazione grazie a te grazie davvero tanto grazie mille a te e come dico sempre a tutti tu sai che le porte di suoni nuovi i suoni della nuova musica per te sono sempre aperte torna a trovarci quando vuoi assolutamente grazie ancora grazie a tutti veramente per la disponibilità grazie a te e allora io vi ricordo ancora una volta nora lisi suoni nuovi bene cari amici è tutto anche per oggi ma prima di salutarci vi voglio ricordare per partecipare al programma seguitemi dal mio profilo instagram il jombagram e scrivetemi attraverso la posta privata per ottenere tutti i dettagli stessa cosa vi ricordo se siete un ufficio stampa e rappresentate un artista scrivetemi proprio dalla posta privata del profilo instagram il jombagram e otterrete tutti i dettagli e come sempre dal vostro jomba a tutti voi un caldo saluto ciao suoni nuovi il suono della nuova musica conduce in studio jomba